Grazie mille! Edmir Vai Edmir Go! Partiti! Vincente Edmir Vincente! Grazie mille! Cassadino Bade di stallo per i due attrezzi Ma nel studio prova a chiudere Grossadino Ma non ce la fa Edmir Nel gancio E' Adesso Prova Edmir Ma non riesce a spostare Il gancio di Edmir Facciamoci sentire Perchè questo veramente E' un gioco spettacolare Veramente spettacolare Parlo di stallo Prova Edmir Qui si va A chi cede prima Prova a chiudere Casimir Edmir Prova a spostarti dalle spalle Tutti i tuoi fermi Qui sicuramente vince chi ne ha di più